Siamo qua ragazzi, durante il match e sul ring c'è lui, adesso lo sta prendendo, però va bene, quello è questo, risorgerà, risorgerà dalle sue ceneri come l'araba finisce, vediamo se ce ne regala qualche provenza, eccolo, eccolo, vai Fit, guardalo, guardalo come lo suona, guardalo come lo suona, eccolo, vai Fit cazzo, Fit, 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 Fit Grazie a tutti.